Provate ad andare in pressione Ancora un ottimo salvataggio E va a segno con lo smash Che profondità Riga Sì è buona Anche questa Doppia riga Ha dovuto disegnare il Sfonda in progressione Palla per il set Ecco l'ennesimo vincente E portava all'avversario veramente Allo sfinimento Ma ha tenuto velocità e profondità E doppio fallo di Sugita Subito l'accelerazione per sua sfortuna È andata Lunga Interminabile questo falleggio Tutto sommato il sommersario propone poco Lui sempre propositivo invece Può chiudere Non c'è riuscito E' la vista che buona Drasticamente scesa Bravo Sempre più di Sfonda E' un grande affanno in questo scambio Mannarinono Che ha 28 anni E Suo undicesimo anno da professionista Yuchi Sugita Riesce a mettere Provata ad andare in pressione Ancora un ottimo salvataggio Lob E va Interminabile questo falleggio Tutto sommato il sommersario propone poco Lui sempre propositivo invece Può chiudere Non c'è riuscito E' la vista che buona Drasticamente scesa E doppio fallo di Sugita Subito l'accelerazione per sua sfortuna E' andata In manga Segno con lo smash Che profondità Riga Sì è buona Anche questa Doppia riga Ha dovuto disegnare Sfonda in progressione Sta palla per il set Ecco l'ennesimo vincente E portava all'avversario Veramente Allo sfinimento Ma ha tenuto velocità E profondità In Sfonda in Grazie.